Baronissi, villa comunale nel degrado. Che la villa di Baronissi abbia bisogno di un'urgente riqualificazione è sta un dato di fatto sul quale molti cittadini convergono. Non vive di certo il periodo di massimo splendore, infatti il salotto buono della città. La fontana che da anni di sede passanti è causa di un sempre più diffuso inciviltà, giusta spesso invasa dai rifiuti, ma è la pavimentazione la componente che lascia maggiormente a desiderare. Il tuffo usato per lastricare l'intera area è ormai gravemente compromesso. Avvallamenti ed improvvise buche mettono a repentaglio l'incolumità dei passanti. Gli abitanti del posto, memori dello splendore passato del cuore pulsante di Baronissi, chiedono una serie di interventi di ristrutturazione che possano riportarla agli antichi fassi di un tempo.